La giornata di oggi, organizzata da UNEBA, che è una federazione di enti gestori di servizi sociosanitari, è dedicata all'approfondimento della tematica della sicurezza nei nostri servizi. È un tema trasversale a tutte le attività, quando si parla di sicurezza si parla sicuramente di sicurezza dell'ambiente, della sicurezza degli ospiti, ma oggi parliamo anche della sicurezza degli operatori. Proprio in questo momento è in corso un intervento sullo stress lavoro correlato e il lavoro degli operatori sociosanitari è un lavoro importante e significativo, l'invecchiamento del personale e la sicurezza anche, parliamo della sicurezza, anche degli enti gestori che lavorano in rapporto di accreditamento col servizio sanitario regionale e richiedono, come dire, delle linee di indirizzo certe a cui poi potersi adattare. È una giornata importante anche per la partecipazione istituzionale, questa mattina ha aperto i lavori il Presidente della Commissione Seconda Sanità, il Dottor Rosso, questa sera chiuderà i lavori l'assessore regionale della sanità, Sonia Viale. UNEBA sul territorio della provincia di Impedia rappresenta le strutture residenziali per anziani, il compito storico dell'UNEBA è fondata circa 70 anni fa dal Cardinale Montini, allora Cardinale Montini a Milano, poi divenuto Papa Paolo VI, è proprio quello di assistere le strutture non profit nella loro attività quotidiana a favore dei più bisognosi, dei più emarginati. Per cui diamo supporto alle strutture sia a livello amministrativo che a livello di gestione degli ospiti, offrendo anche momenti di formazione come quello di oggi molto importante sulla sicurezza, come diceva il Presidente Grigoni. Il nostro compito è anche quello di fornire supporto all'organizzazione sindacale per gli accordi di secondo livello e ci adoperiamo affinché tutte le strutture possano adempiere nel migliore dei modi la propria attività in un momento di forte crisi economica in cui molte strutture stanno andando anche in difficoltà economica sul patrimonio, attingendo spesso al proprio patrimonio costruito negli anni e nei secoli per alcune strutture per poter continuare la loro preziosa attività sul territorio. Ricordiamoci che specie nell'entroterra le strutture sono dei punti di riferimento e spesso l'unico punto di riferimento nei piccoli comuni e perdendo la struttura residenziale per anziani si viene a perdere proprio un pezzo di storia radicato e, come dico sempre, piantato con i chiodi nel terreno.